buongiorno cari amico da paolo il giorno è oggi cosa facciamo fare un allenamento dei bicipiti potenti bicipiti bicipiti anche il braccio per me il braccio comprende il tricipiti bicipiti e l'embraccio anche la spalla o trapezio però il giorno di oggi solamente vamos allenare il bicipiti il mio è un pochino piccolo devo metterlo a fare un pochino di forza guarda è perso è perso è perso perché è stato un pochino così con un pochino male il refreddore però adesso torno nuovamente il giorno di oggi voglio fare questo voglio fare 4 a 5 esercizio del bicipiti è portato questa banda elastica elastica ogni colore ha una resistenza il giorno e oggi io vorrei utilizzare l'arancione e la nera perché le altre stanno un pochino più mole allora questa questa hanno perso vanno via vanno via nel concentro della mente e in questa è stato ok poi a fare queste fare un circuito per diventare il bicipiti il bicipiti potente mi emoziono e mi confondo però vabbè l'importante è che tu me capisca ok vamos a iniziare vamos a iniziare con un pochino di movimento movimento nel braccio nella spalla così mi attivo e sono un pochino condizionato per fare l'attività fisica il bicipiti il bicipiti guarda il mio è un pochino come ho detto prima non è un pochino non solamente l'elastico si potremmo anche aggiungere un po' un po' di peso però questo si vuole lavoro costanza costanza non solamente un solo giorno due tre almeno questo esercizio io lo consiglio di fare almeno tre volte a la settimana a settimana lo puoi ripetire di 4 anche 5 serie 5 serie ok vamos a iniziare con il nostro primo esercizio fare il bicipiti con questa che è un pochino più intermedia e dopo con la più pesante ok voy a iniziare voy a iniziare è importante importante di questo fare un pochino riscaldamento beber un pochino di acqua e stare attivi ok perfetto questa corda la puoi trovare in un negocio esportivo è facile trovarla costa poco ok il primo guarda abro flessione ginocchio schiena diritta petto manti guarda come un cavallo romano così ok ok vamo a fare vamo a fare una 12 va 1 lentamente 2 3 4 vai giù vai giù vai giù 5 6 7 8 9 la respirazione 10 1 in più 1 in più 1 in più 1 in più ok perfetto adesso subito 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 con la più pesante così le mettiamo più resistenza a a nostro bicipiti a nostro bicipiti ok ok guardalo qua guardalo qua lentamente lentamente oh no così no meglio corto meglio corto ok ci va ci va 1 lento cominciamo a fare 6 2 3 corto 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 4 5 6 8 aiutate con la forza dell'addome 9 in 10 perfetto questo lo repito 2 a 3 volte perfetto perfetto libero iniziamo iniziamo per fare 2 falli riposo io continuo con il nostro secondo ejercicio per il bicipiti adesso cambio cambio la postura la postura prima ci fu sopra adesso lo faccio davanti metto qua la nostra banda elastica qua dietro di questa base metallica tu lo puoi fare anche nella porta della casa, nella finestra, nel balcone, ok, perfetto, perfetto, flessiono il ginocchio, schiena diritta, mi aiuto anche con la forza dell'addome, che voglio fare, voglio fare questo, uno, due, spalla ferma, tre, guarda i bicipiti, quattro, cinque, sei, sette, guarda come mi contrai, nove, dieci, undici, e dodici, adesso, ugualmente, ugualmente, vamos a farlo con la banda più, più potente, più potente, così il nostro bicipiti va diventando grande, 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 vogliamo essere un bicipiti potente, potente, così quando andiamo in giro, la regazza voi, amore, che stai facendo, no, me stai allenando, allenando, fortemente, fortemente con fisi male, ok, lento, lento, guarda, uno, flessiono il ginocchio, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, va, va, e dieci, ok, mi bicipiti sta cogliendo un pochino di orma, 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 come detto, questo lo puoi repetire, di due a tre, a quattro volti, a quattro volti, se tu non hai due bandi elastiche, usa solamente una, però lo tratta di fare l'exercicio più lentamente, ok, adesso, continuiamo con il nostro prossimo esercizio, il prossimo esercizio sarà di altre angolazioni, altre posizioni, così elaboriamo il nostro bicipiti di diversi anglii, non solamente un solo movimento fermo, sino le diamo un pochino di varietà, così stimoliamo il nostro bicipiti per tutti anglii, per quello, per quello, sempre quando facciamo un esercizio di bicipiti o gamba, qualsiasi altro muscolo, sempre, sempre lo facciamo con 4 o 5 esercizio, perché così lo alleniamo per tutti anglii e il nostro gruppo muscolare diventa forte, ok, ok, il nostro prossimo, guardalo qua, guardalo qua, è questa postura, guarda, la schiena diritta, mi aiuto, vamos a fare 12, si va, 1, lentamente, 2, 3, mi concentro, 4, pongamelo più dietro, più resistente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e due in più, 1 e 2, ok, ok, vamo a aggiungere un pochino più, più resistenza, ugualmente, ugualmente, più resistente, va, qui va, 1, vamo a fare 7, 7, 7, perché questa è più forte, 1, guardalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 2 in più, 9, 10, adesso, cambio di esercizio, facciamo la pausa e cambiiamo di esercizio, ok, 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 la nostra proposta, il nostro ultimo esercizio lo faccio da una posizione molto più, comoda più, confortabile, qua, vamos a mettere un punto di sostegno a il nostro tricipiti, allora, il nostro muscolo va a lavorare un pochino più forzatamente, ok, perfetto, perfetto, qua, uso la banda, la banda, ok, la banda, iniziamo con la banda più, più, più intermedia, più intermedia di questa posizione, guarda, il tricipiti sempre c'è a terra, a terra, e comprimo sempre il mio addome, ok, e vamo a iniziare, vamo a fare 12, 1, facendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e iniziare, vamo a fare 2 in più, 1 in più, il ultimo, il ultimo, il ultimo, il ultimo, mi sono emozionato, ok, sostengo, cuento 3, 1, 2 e 3, adesso, vamo mettere più resistente, più resistente, più resistente, più resistente, più resistente, questo non fa morire, questo non fa morire, ok, si va, si va, ok, si va, ok, si va, vamo a fare almeno 8, 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 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ultimo, 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 si va, si va, si va, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11,12, questa mi schermi ti guard celebrity guardano, guardano nello qua, costruisco 4 volte, per ogni richelanzo, e la settimana me lo fai 4 volte, mira il comando, anche le Rosenzio un pochino di peso, Matteo, come è andato il allenamento? se lo hai fatto o no? il prossimo esercizio sarà più bello e più interessante per te grazie per guardare questo canale se ancora non ti sei iscritto iscriviti a questo decore... paolo ha due core, guarda destra e sinistra ha due core grande grazie, grazie, grazie ragazzi a la prossima ciao ciao grazie, grazie ragazzi per mandare questo allenamento grazie a tutti vediamo al prossimo a la prossima a la prossima a la prossima